eccomi qua ecco la mia bancarella potete anche star dietro eh ciao adesso riprendo tutto mano a mano piano piano non troppo lungo bisogna diventare peso anelli non mi state addosso così orecchini segnalibri altri orecchini specchio ciondoli da mettere con le collane ok vai al bar ok 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 questo è il backstage cellulare biro bustine molti guadagni soldi di cui la maggior parte ce li avevo già prima di partire il mio ragazzo si il ragazzo è molto nel backstage amo questa macchina che non mette a fuoco ciao ciao alcuni sono stati venduti costilliamo anche qualche anello è stato venduto anche se non sto venendo praticamente nulla l'uomo è stato venduto quest'anno la mia banca non è stato venduto con la mia banca ma la mia banca in un'altra è il mio ragazzo il bar che si viene parte è un'altra 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 la mia banca che si viene che si viene a poi la mia banca è un'altra E questo casino cos'è? E' metà pomeriggio ed ecco com'è finita la giornata Diluvio Roba fradice dappertutto Laghi causati dal gazebo Che non tiene l'acqua Questo coso è completamente fradicio Io sono completamente fradicia E ormai ce ne andiamo se Dio vuole Ho già costruito anche l'arca di Noè Sai come ho fatto la parte di te? Vai là